La Gran Premio Industria e Commercio di Allarciano firma Mattia Cataneo per l'Androni, giocattoli Sivermec e poi Matteo Montaguti, Romagnolo, vincitore di una tappa, Arturo De Al, vincitore di una tappa al Giro d'Italia nel corso della propria carriera, velocista Romagnolo Manuel Belletti e procediamo quindi con Fausto Masnada, è il turno ora di Matteo Cusato, formazione dell'Androni, giocattoli Sivermec, che schiera alla partenza anche il vincitore di una tappa alla guetta, di un Memorial Pantani, Francesco Galazzi e poi è il turno di Marco Frapporti con Cheula, Elena, Gianni Sabio, questi sono i ragazzi dell'Androni, giocattoli Sivermec Informazione italiana che molto probabilmente ritroveremo oggi tra le squadre più combattive di questa edizione della Milano Sanremo